Dal 24 settembre al 26 ottobre divieto di accesso ai mezzi privati alla rampa partenze dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania. A comunicarlo la SAC, società che gestisce l'aeroporto, per consentire lavori straordinari di riqualifica e impermeabilizzazione del tetto del terminal A. I passeggeri e loro accompagnatori potranno usufruire dei parcheggi P1 e P2 per i saluti e per le operazioni di scarico dei bagagli. In entrambi i parcheggi i primi 15 minuti di sosta sono gratuiti. Potranno transitare dalla rampa partenze, ad eccezione di alcuni giorni di ottobre, solo gli autobus pubblici e turistici, i mezzi delle forze dell'ordine e quelli di soccorso. L'area in questione sarà presidiata da personale del servizio viabilità di SACService per informare gli utenti e rendere più fluido il traffico. L'intervento di riqualifica e impermeabilizzazione del tetto del terminal A rientra nella programmazione del piano triennale degli investimenti 2017-2020 che SACS ha concordato con ENAC nel maggio dello scorso anno. I lavori saranno eseguiti da SACS in autofinanziamento e il costo complessivo dell'opera, che include i costi di sicurezza per le maestranze, ammonta a 838.639 euro.